Mamma mia ragazzi, ma che sta succedendo con le cripto? Bitcoin 34.000, vi faccio vedere, vi aggiorno la mia situazione, ovviamente vi nascondo la cifra che ho investito, vi nascondo le percentuali, cioè ma io mi sento male, guardate qua, profit and loss di oggi 4.845, profit and loss di 30 giorni 10.304 euro, ma che malzo ho avuto il mio portafoglio? A giorno di nuovo perché veramente, eccoci qua, la cifra si aggira in questo, è tutto reale, tutto live, è pazzesco, cioè io ringrazio quel giorno che sono entrato nella The Serve Academy, cioè ma immaginatevi se io non ero entrato, perché adesso sta arrivando, diciamo il rumore, il noise, non il rumore, diciamo la FOMO sta arrivando, cioè la gente comincia a espandersi, ATF, Bitcoin è stato approvato, 34.000 oggi, è continua, continua, e quando ti arriva la vocina e tu non sei seguito, non conosci nulla del mondo cripto, non sei seguito dai professionisti, non sei nulla, cioè quella chat, poi il gruppo Telegram, è una salvezza, ragazzi io ve la consiglio, guardate che performa, ma a me la sognavo, 10.000 euro in un mese con il mio portafoglio, 4.837 in 24 ore di incremento e siamo solo all'inizio, che cosa succederà dopo l'alving? Cioè io mi sento male, io mi sento male, ma mi sento male positivamente, perché poi in realtà non è, cioè sono molto tranquillo, perché grazie alla The Serve Academy so cosa comprare, continuo ad accumulare, riesco a capire dove sono le opportunità, a seguire la strategia, in due wallet, ok, li eseguo entrambi, quello da 1.000, da 10.000, Per chi non sa cos'è la The Serve Academy, ragazzi, è un gruppo Telegram di praticamente due ragazzi, Alexander Lex, che è anche uno youtuber mio amico e collega, e Manu, anche l'ho reputo amico e collega, Manu è proprio il più bravo che abbia mai visto nel settore cripto, e anche gli altri membri della The Serve Academy se ne stanno rendendo conto e lo stanno scrivendo, gli stanno facendo delle sviolinate, prima ero solo io che facevo le sviolinate a Manu, perché veramente un ragazzo, cioè, veramente c'è tanta fuffa in giro, gente, youtuber, che dicono, parlano, lui è lì, tranquillo, fa il suo, non si fa prendere, analizza, ti dice, abbiamo, cioè, ci rendiamo conto, ha creato, lui è che crea i wallet, e io non ho mai visto un wallet più perfetto di questo, nel senso che io non so quanti mesi fa sono entrato, ho fatto video, comunque, se volete entrare anche voi, costruire i vostri portafogli, è in descrizione, lasciate i vostri dati, guardatevi i contenuti, vi arriva sia la video presentazione della The Serve Academy, e che il corso completo sul metodo matematico per guadagnare con le cripto, come funziona questo settore, perché siamo sicuri, stiamo investendo, perché siamo sicuri che nel 2024, 2025 faremo un sacco di soldi, guardate i contenuti gratuiti, poi, adesso, al momento, le iscrizioni sono chiuse, quindi, se vuoi entrare, lascia i tuoi dati, e io ti ricontatto, così ti spiego tutto, e vediamo come fare per entrare, ma fallo adesso, perché, io, stiamo veramente, costruendo dei wallet, tu puoi ancora recuperare, ma il tempo si sta stringendo, probabilmente le iscrizioni li apriranno a novembre, ma, e se guardi questo video, io ti dico, link in descrizione, lascia i tuoi dati, guardati i tuoi contenuti, poi compila il modulo, ti ricontatto io, vediamo che cosa possiamo fare, se vuoi investire, qua, parliamo di poche migliaia di euro, che ti danno la possibilità, attraverso le cripto, attraverso il momento storico che stiamo vivendo, esattamente questo momento storico, siamo a fine 2023, nel 2024 ci sarà l'Halding, ci sono delle opportunità, se non le conosci, vai in descrizione, lascia i tuoi dati, ti arriva anche il corso dove, di 50 minuti, fatto da me e Manu, che da me e Alex, Alexander Lex, guardatelo, lì capisci, non perdere questa opportunità, adesso entra, puoi mettere 1000 euro, hai solo 1000 euro, c'è il wallet da 1000 euro, metti 1000 euro, possono diventare 50, 60, l'obiettivo è 100.000, anche col wallet da 1000, magari non arrivi, è un target ragazzi, però, magari arrivi a 20, 30.000, ma in un anno, chi te li dà? Con 1000 euro, sfrutta questo settore, poi se hai più soldi, è ancora meglio, c'è il wallet da 10.000, che ti fa 100.000, ma può fare anche di più, il momento è adesso, è storico, stanno entrando gli istituzionali, c'è stato questo pump a 34.000, perché è quasi fatta, forse nelle prossime giornate verrà annunciato, cioè secondo me devi agire adesso, entra adesso e portati in pari, e se non hai mai preso in considerazione l'ipotesi di fare dei soldi con le cripto, beh, inizi a prenderla, perché io guarda, non ho fatto niente, niente, ho solo accumulato, ho comprato nel mercato spot, ho creato il mio portafoglio, ed ecco qui la situazione, 4.864, beh, l'avete capito, sono in profitto, e più di 10.000 euro in 30 giorni, che succederà fra 90 giorni, che succederà fra 6 mesi, che succederà fra 12 mesi? E io starò bello tranquillo, notizie, hype, quanto starò tranquillo con il mio portafoglio? Manu è un grande, cioè io non ho mai visto, ho avuto esperienza, l'ho raccontato anche in altri video, 2017, 2021, quando ti metti da solo, e compri, 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 non sai quando comprare, ma sai quanto rosso ho dovuto sopportare io? Io non ho visto mai rosso su questi portafogli, ma ci pensi, su questi wallet, solo per questo dovreste pagare l'abbonamento nella Deserve Academy, perché stai tranquillo, questi portafogli, credo abbiamo acquistato al minimo, sono sempre stati in profitto, perché è allucinato, cioè sai, qualcuno di voi avrà avuto esperienza con le cripto, tu compri le cripto e poi ti vai in rosso e non sai, oddio, che faccio, non sei lucido, perché? Perché non conosci il settore e non sai neanche che cosa stai comprando, io basta, non lo faccio più, io compro solo quello che mi dice Manu, e così attraverso la sua esperienza lui sta tutti i giorni sui grafici, almeno questo per quanto riguarda il wallet spot, il wallet spot, perché basta anche col trading, sì, ma basta, cioè, siamo a fine 2023, nel 2024 c'è l'Halving, ma stati tranquillo, compra, accumula e puoi avere delle performance pazzesche senza la leva nel mercato spot, sfruttando il meccanismo di questo settore, ma se tu non lo conosci, io in passato ho fatto da solo e i portafogli erano in rosso, questo non ci pensavo oggi, ma questo portafoglio non è mai stato in sofferenza, mai, cioè, è allucinante, ma è una cosa, non so se riesco a trasmettervela, io vi faccio i video, vi faccio vedere anche che dovrei farmi fatti miei, quello che mi sta portando, ma fate voi, ma è un'opportunità incredibile, veramente, cioè, poche miliardi di euro, sì, ci siamo, e, cioè, le opportunità vanno anche colte nel momento esatto in cui ci sono, perché se aspetti, poi sfuma tutto, e poi impazzisci, entrate con la FOMO, poi questo credo sia l'ultimo avviso, te lo faccio col cuore aperto, non sono neanche aperte le descrizioni, però, per chi vuole entrare, lasciate il link in descrizione, lasciate il link, compilate il link in descrizione, è uno dei due, o il corso matematico, o la The Serve Academy, la presentazione, tanto vi arriva la stessa main, vi guardate sia la presentazione che il corso, e poi compilate il form, e io vi ricontato, e vi spiego tutto, ed entriamo, ed iniziamo subito ad accumulare, poi dentro trovate, non soltanto il, semplicemente, i wallet che abbiamo comprato, le crypto che abbiamo comprato, quelle che, poi, stando dentro, ancora non abbiamo finito, ovviamente, abbiamo poi il wallet da mila, ancora stiamo aspettando, siamo dentro solo con 3-4 crypto, quello da 10.000, e siamo a metà, ancora possiamo recuperare, però già così, guardate che performance, ma che state aspettando? Link in descrizione, lasciate i vostri dati, vi ricontatto io, compilate il modulo, ed entrate, l'ultimo, il timing, sta scadendo il tempo, cioè, poi arriva Bitcoin, una settimana fa Bitcoin era 26.000, 25.000, allora è 34.000, dove sarà la prossima settimana? E tu dove vuoi essere? Vuoi essere con un comodo, come me, seduto su un bel wallet, che già sta performando, direi bene? O vuoi essere quello affannoso, che non sa cosa fare? Spendili sti soldi, cioè, veramente, per non spendere soldi, ho parlato con tante persone, che sono entrate, ma mi dispiace per quelle persone che non sono entrate, che sparano cavolate, no, voglio fare questo, non voglio fare quello, no, vabbè, mi chiamano per, a volte mi chiamano, no, e poi vogliono fare qualcos'altro, ma che vuoi fare? Ma se è una vita che non hai risultati, che stai senza soldi, ma prenditi la cosa più semplice, perché la gente forse non ci crede, pensa che sia tutta una pioffa, io non lo so, ma nel momento storico, per quello abbiamo fatto il corso, fatti a vedere il corso di un'ora dove ti spieghiamo come funziona questo settore, perché dopo l'alving Bitcoin crescerà, perché è proprio adesso una grande opportunità, perché stanno arrivando le banche, i governi, l'ETF sta per essere approvato, dove sarà Bitcoin? Settimana prossima Bitcoin potrebbe essere 50.000, cioè, perché non vuoi prendere questa occasione, perché vuoi perdere questa occasione? Credo sia l'ultima occasione, entra adesso, fatti seguire da dei professionisti, non credo che andrò avanti, quanti video ho fatto? Bravi quelli che mi hanno ascoltato sono entrati, adesso sono dentro e stanno, ma gli altri, no, preferisco andare da quello, da quello, ma dove stai andando? Ma stai, ma dove vai? Dove vai? Che c'è gente in altri gruppi che non ha investito, che sta aspettando Bitcoin a 12K, cioè che poi io non, queste cose, a me, manco io, seguo solo, le leggo dentro il gruppo della The Serve Arcade, perché nel gruppo c'è la chat, H24, assistenza, le analisi, l'analisi on-chain, le analisi ogni giorno di Alex, il copy trading, c'è tutto per lucrare in questo settore, ma soprattutto il focus è sui wallet, perché fine 2024-2025 c'è da fare un sacco di soldi, li vuoi fare, sti soldi? Guarda che da solo non è facile capire questo settore, io ci ho provato, 2017-2021 non ho mai, ma anche a livello di mindset, cioè anche se ho capito che dovrei accumulare adesso, ma non hai quell'approccio poi, soprattutto se sei uno che ha risorse, ma adesso le devi mettere lì, ok? Guardate i link in descrizione, guardate i video che vi arrivano, lasciate i vostri dati, poi compilate il form, io vi contatto e ultima chiamata, poi credo che fra qualche giorno riapriranno le iscrizioni, vi potete portare avanti e credo che a novembre sia l'ultima occasione, quindi i link sono in descrizione, e vi aspetto dentro per tutti quelli che sono in grado di cogliere un'opportunità e cambiare la propria vita, per tutti gli altri, sinceramente, mi dispiace. Qualcosa voi la dovete fare, cioè un passo in avanti, un rischio, che pensate che sia tutto, correre un rischio. Io il mio l'ho fatto, vi ho dimostrato, sono mesi e mesi che parlo, cioè, non a me che mi frega per quella percentuale che prendo, cioè, io lo faccio più perché i ragazzi mi hanno messo dentro gratis, io ho un grande debito con questi ragazzi, ok? Avrei preferito pagare, anche quello che pagate, queste 1200, l'amoramento 1200 USDT è state dentro sempre, è pochissimo, voi dovete entrare, dovete, infatti gli avevo detto, inserite una sezione mancia, perché poi l'universo va messo in equilibrio. Io mi sbatto, ma non per i soldi, perché mi hanno messo dentro, per ovviamente una collaborazione di una partnership di lavoro, ma io uso questo servizio, ma chi è che c'è là fuori che usa? Completamente strano, una persona strana che lucra 10.000 euro, 10.000 euro di profitto in 30 giorni, grazie ai wallet costruiti da Manu e Alex, quindi, lucro, uso il servizio, ve lo propongo, che cosa c'è di meglio? Bene, io li impegno, oltre, non lo faccio per i soldi, lo faccio perché questi ragazzi se lo meritano, se lo merito, quindi voi adesso vi iscrivete, vi compilete il form, io vi chiamo, pagate 1200 USDT, state dentro e alla fine fate un regalo ad Alex e Manu, anche tu che mi stai guardando, tutti i ragazzi che sono dentro, siamo più di 50, a fine Murrana, a fine tutto, regalo, non prendete più di quello che ricevete, i ragazzi, Alex e Manu, vi stanno dando la loro vita, vi stanno dando il loro tempo, compassione, vi stanno dando un'opportunità incredibile, non è che con 1200 USDT pensate di stare pari, quando avete fatto poi decine di migliaia di euro, mi raccomando, tutti a fare un bel regalo, perché se lo meritano, vuoi entrare, costa pochissimo, link in descrizione, ultima possibilità probabilmente, io continuo a lucrare, almeno mi interessa, ma forse interessa a te, se sei intelligente, lasci i tuoi dati, ti arrivano i video, guardateli, puoi compiere il form e ti chiamo e sfruttiamo questa grande opportunità, e adesso è legata a questo momento storico, cos'è oggi? 24 ottobre, ok, probabilmente fra un mese cambia tutto, quindi entra adesso, ti aspetto dall'altra parte, ciao!